Spero di affidarvi il compito di iniziare le serate, non è la cosa più semplice perché bisogna rompere il ghiaccio, bisogna far avvicinare la gente A proposito, se vi avvicinate non prendete la macchina perché sono in esposizione, non prendete nemmeno la Vespa, lasciate tutto stare così come sta Vi spiegherò poi anche il perché di questo E quindi, fiato alle trombe, come si potrebbe dire, Giuseppe e Andrea, le giovani schegge per l'apertura di questa serata, a voi E adesso andiamo tutti su con le mani Grazie 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 Soltanto l'errore Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie ragazzi Mentre si affievolisce Il ritmo di De Forti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti